E ciao a tutti ragazzi, anche oggi dal vostro mascarato siamo qui sul mio canale per recensire una nuova figure della mia collezione comprata sempre dal mio negozio di fiducia Resolution Shop a Palermo Anche oggi parliamo di una ban presto, serie grandista, Resolution Shoulder Questa volta a tema Dragon Ball, come potete vedere la scatola è identica alle altre recensite Classiche stampe, scritta bianca sopra e scritta bianca sotto grandista Questa volta cambiano il sopra dove c'è la stampa ban presto e il sotto Ma impatto visivo pressoché identico, cambia semplicemente il protagonista e i vari loghi Dragon Ball e la serie Passiamo alla figure Cosa più importante, eccola qua, il nostro Son Gohan figlio di Goku Versione nella saga di Cell praticamente Eccola qui, vi faccio fare una panoramica generale della figure Posa davvero statica Semplice Braccia giù con pugni stretti Sguardo normale Tranquillo Versione Super Saiyan di Gon, appunto diciamo col classico vestito datogli da Junior Le varie, i vari strappi sulla tuta Dicevo, questa versione grandista di Dragon Ball ha una piccola perla Che è quella su cui praticamente possiamo cambiare posa Da statica così, possiamo farlo diventare statico a livello di Super Saiyan 2 Quam presto fornisce due braccia intercambiabili Sempre a pugni chiusi però in posizione diciamo di carica aura Più la testa ovviamente di Son Gohan Super Saiyan 2 Ora ve la farò vedere anche nel dettaglio Intanto vi faccio vedere nel dettaglio la figure per ora com'è Sculpt facciale ottimo Anche la capigliatura per quanto riguarda questa testa Il colore dei capelli è un pochettino piatto Però forse al video non si nota ma è un po' brillantinato il colore Non si notano le attaccature appunto dei capelli Ricordiamo sempre che è una figure di bassa fascia a livello economico Guardiamo il mantello davvero ben fatto ragazzi È la cosa che mi piace di più di questa figure Perché si può ottenere sia in questa versione Che quando si mette la testa del Super Saiyan 2 Anche la tuta ha qualche sfumatura di violetto più chiaro Vediamo lo strappo come è fatto Non ci sono segnali evidenti sulla pelle Sfumature di vario colore come in altre grandiste Poi manpresso qui torna con la solita pecca per me Che sono questi piccoli piedistalli di plastica Che vanno davvero a ingombrare la figure Poi guardate dico Celestino ragazzi È davvero un colore pessimo secondo me Dobbiamo farlo violo comunque sia lo stesso colore della scarpa Magari per essere meno Per avere un impatto visivo minore Questa è la figure A livello di Super Saiyan 1 Davvero bella Forse la poso un po' troppo statica Però ben fatto Potevano ricordo migliorare un pochettino il colore dei capelli Dargli magari un Un giallo un po' più acceso Magari perlato Torniamo alla base E Vi metto Gohan nell'altra versione Da Super Saiyan 2 La testa Mantello Spostiamoli questi Ecco Cambiamo anche le braccia Vedete Facilmente smontabile Assembliamolo nell'altra Nell'altra versione Ecco Testa da Super Saiyan 2 Eccolo qua ragazzi Vedete È come se avessimo due figure Al prezzo di una praticamente Possiamo esporla sia nella versione di Super Saiyan 1 Che Nella versione secondo me più bella Che quella del Super Saiyan 2 Quando Diciamo Si arrabbia E lotta Realmente contro Cell Vi faccio vedere Una panoramica di nuovo Di Gohan Con questa versione Ora andiamo a vedere bene Nel dettaglio Eccolo Andiamo a vedere Painting Identico Per quanto riguarda I capelli Ma Qui ragazzi Lascia un pochettino più A desiderare Come vedete L'attaccatura È visibilissima Questa è una pecca Secondo me Enorme A livello visivo Vedete lo stacco Che c'è fra La faccia Le basette I capelli Qualche sbavatura Come potete vedere Nell'occhio Poi la figura Ovviamente È identica Cambia semplicemente La posa Anche qui Così Si mette In risalto L'altro Strappo Della tuta Qua Il rosa Ragazzi È piattissimo Veramente La colorazione Come dicevamo Come le altre Grandista È sempre opaca Anche qui Avrei preferito Un painting Un po' più acceso Per i capelli Però dico Ragazzi Ricordo che È una figure Di bassa fascia E per quello Che vale Ragazzi Dimensioni Prezzo E qualità Secondo me Al solito È un acquisto Abbastanza ottimo Sono figure Le grandista Che vanno Non go Ovviamente Perché È un pizzico Più piccolino Rispetto Agli altri Personaggi Ma Anche questo Non è ragazzi È un acquisto Che va fatto Per chi segue Come me La collezione Banpresto Della grandista Sarà alta Un 24 25 cm Gohan Mentre Le classiche Recensioni Abbiamo fatto Di Zoro Sanji Ed Ace Siamo circa Sui 28 29 cm Quindi Gohan Ovviamente In scale È un pochettino Più basso Però ragazzi Dicevamo Anche questa figure Nel complesso Secondo me È un buon acquisto Quello che vi dicevo io Ragazzi La cosa che a me Fa impazzire Ve la mostro È questa possibilità Di andare a mettere Gohan Livello Super Saiyan 2 Con Il gran mantello Dell'abito Questa cosa così Ragazzi A me Fa impazzire Un casino È fighissima Con questo mantello Non si vede mai Gohan Super Saiyan 2 Con queste vesti Praticamente Con il mantello Mi piace Un sacco Altra panoramica Di nuovo a girare Per quanto riguarda Ripeto Lo sculto facciale Forse È preferibile Quello della Testa Di Super Saiyan A meno imperfezioni Il giallo Un pochettino Più chiaro Dei capelli Sempre brillantinato Ripeto Dal video Non si nota Ma È come se ci fossero Dei piccoli brillantini Questo è tutto ragazzi Per Gohan Grandista Resolution of Soldier Spero al solito Come sempre Che vi sia piaciuto Il video Lasciate un like Nella descrizione C'è il link Per la mia pagina Facebook Qualsiasi info Volete Riguardo la figure Iscrivetevi Nel mio canale E attivate la campanella Da Gohan E da Mascalato è tutto ragazzi Alla prossima Alla prossima Alla prossima